sono stanco del fatto che la figura del laureato sia percepita nella maggior parte dei casi soprattutto in italia come una figura inutile o addirittura parassitaria che non contribuisce a far sviluppare la società quando poi è l'esatto contrario visto che una di quelle figure più rilevanti a tal proposito e che può contribuire a far realizzare uno sviluppo ottimale armonico della società faccio questo video come appello soprattutto ai laureati e chi si sta apprestando a studiare o ha già intrapreso gli studi universitari in questo campo per seguire questo canale mettere like a questo video condividerlo e aiutarmi a realizzare dei progetti meravigliosi uno dei quali è la valorizzazione massima della figura del laureato in filosofia la società e il mondo hanno bisogno di autentici filosofi però è anche giusto considerare delle criticità chi si laurea in filosofia soprattutto in italia dovrebbe essere consapevole della situazione del fatto che la società non sia molto aperta anzi tutt'altro ad accogliere la figura del filosofo quindi bisogna fare in modo innanzitutto di essere eccellenti nel campo della filosofia e a tal proposito io posso dare un contributo lo dico senza arroganza perché io non mi limito a proporre dei contenuti filosofici ma cerco di indurre la riflessione filosofica rigorosa che poi questa tendenza abbia assunto la forma dei contenuti proposti da emanuele severino questo non è un caso è perché quel filosofo è colui che ha portato alla massima forma di rigore la riflessione filosofica ma quel rigore può essere trasferito anche in altri campi altri settori di cui la stessa filosofia si occupa severino si è occupato di ontologia ebbene quel rigore lo si può anche portare in altri campi della filosofia oltre che in altri settori della cultura quindi uno dei miei appelli è divenire eccellenti nel campo della filosofia e poi utilizzare in modo versatile quella competenza in altri settori e quindi cercare di far fruttare a livello professionale la competenza filosofica cercando di combinare vari fattori ad esempio se si è bravi nel disegno come lo sono io esercitarsi in campo artistico in campo fumettistico se si ha in mente un'idea una storia da raccontare oppure un romanzo o un ibrido un altro progetto che sto realizzando è un romanzo illustrativo che è un ibrido tra un romanzo e un fumetto dove cerco di far convogliare la mia passione filosofica e anche per tematiche spirituali con l'intrattenimento che può fornire quel tipo di format e di contenuti un'altra idea può essere creare una composizione musicale o delle composizioni musicali a tema filosofico se si sa realizzare una composizione se si sa suonare se si sa cantare oppure in campo in altri campi in campo culinario se si ha la passione per la cucina e si è appassionati di filosofia si possono combinare le due cose e quindi creare dei video dei contenuti dove si coniugano delle tematiche filosofiche con le pietanze prodotte visto che comunque anche in campo culinario c'è grande filosofia dietro molti piatti se non se non addirittura in realtà dietro ogni produzione questo consiglio può valere per tutti gli altri campi può valere anche per la recitazione nel caso si voglia fare l'attore l'attrice e si abbia passione filosofica si potrebbe far convergere la filosofia in quel settore in quella disciplina se siete d'accordo se volete davvero che ci sia una valorizzazione massima della figura del laureato in filosofia dello studioso in filosofia uniamoci creiamo un progetto unico che mai è apparso prima un progetto culturale senza precedenti dove realizziamo un'elite filosofica che porti avanti i progetti ottimali che sarebbero auspicabili in primis quello di migliorare la collettività quello di migliorare l'individuo perché non basta come credono molti erroneamente guadagnare soldi e pensare all'aspetto materiale della vita per andare bene questa mentalità in realtà è limitante ostacolante anche per la prosperità materiale sia individuale che collettiva ed è fonte di enormi guai e problemi basti pensare al fatto che molti che si dedicano solo alla vita strettamente materiale e professionale ma in modo inconsapevole senza curare i vari aspetti dell'esistenza e curare e coltivare la propria interiorità la propria consapevolezza generale del mondo vanno a fare in molti casi scelte scellerate a vari livelli